Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kirby's Return to Dreamland Deluxe Mi ha presto ad affrontare un nuovo livello, il livello 3 per Industria in Voltino Vediamo un po' dove siamo Cos'è questo? Ah, un ascensore, bene Ci sono un po' di nemici ingabbiati, che succede? Ok, qui si inizi allora? Perfetto Vediamo un po' Ah, questo è un nastro trasportatore, nulla di che Aiuto, ci sono uno dei nemici e c'è il vento? Oh no, questi scoppiano, via via, scappa, scappa Ok, sarà tutto quanto sui... Oddio, ora l'ho mancato Dico, sarà tutto quanto sui binari, sto livello, perché... Ah no, forse no Eh, però, invece mi sa proprio di sì Bisogna stare attenti a qualsiasi possibile uscita che ci può portare a prendere un ingranaggio, come li chiamo io Oh, ok Ma Kirby rimane fermo nel caso? No, non rimane fermo E ci prende anche danno Non solo non rimane fermo Ah, ah, ah Ok, ok, ok Ho capito Però io posso nel caso, volendo Ah, no, più di tanto non mi fa andare Però devo stare attento Ah, ecco Beh, allora Se te li mettono così è fattibile Ma se te li mettono tipo l'altro che dovevo aspirare il blocco di cemento Mi sa che li manco tutti Ok, ah, ok Quindi questo è fatto Eh, però io devo fare così, devo fare Ah, ma tanto posso tornare Ho preso danno... Dove, scusami? Quando ho preso danno? Che non mi ricordo più già Allora, aspetta Vai Ah, potrebbe servire lui, effettivamente Cioè, Bombi Junior Che fai, Bombi Junior? Mi vuoi menare? Allora, ragazzi, sì Cascate, per favore Ecco, grazie Oh, bravissimi, eh Comunque Qua c'è un incontro con un boss, immagino Sì Doppio! Chi sono quei due? Oh, cavoli Ora capisco perché Eh, ragazzi, questo è pericolosa Oddio Che succede? Oh Sei buono, eh Tu, Tato Vedi di fare il buono, tu Eccolo Andato Eh, non so se mi serve lui O O il raggio Chi mi serve? Lui forse Boh, prendo lui Magari non serve nessuno dei due Perché Che devono per forza servire Eh, serviva lui effettivamente, sì A quanto pare Anche perché, in effetti Quello raggio è andato via un po' troppo facilmente Quindi Serviva proprio lui Ok Ah Ah, ma scende? Devo essere veloce allora? Devo essere veloce? Sì, accidenti Ok Wow Ah Ok Mi piace poco questa cosa Qua sicuramente c'è un Fenix da affrontare Potrebbe anche essere Eh, sì, c'è un Fenix Eccolo qua, va il nemico Un raggio, bene Non tornerò indietro a distruggere quelli Perché tanto non servono Dico, non serve distruggere tutto quanto il distruttibile con il raggio, no? Vai Manca uno, manca uno, manca uno Perfetto Buono Andiamo Plecgoski Fratelloski Bene Guarda quante stelline Fatto? Perfetto Vai Anche qui distruggiamo tutto Allora Lo sto facendo nella maniera Meno efficace Meno efficiente Non efficace Meno efficiente possibile Ma Devo Ah, devo andare avanti Ok Ma ok Questa è tosta Accidenti Allora Ora faccio bene, dai Eccola, eccola, eccola Bene Faccio per romperlo, eh Ok Che succede qua? Bene Ci siamo Vediamo quante volte ci perdo qui ora Ok Ok Nell'acqua Si nota abbastanza velocemente Doppio questo lancia Ovviamente Figuriamoci Ah, non mi interessa se mi faccio male Va bene uguale Ah, quello non me l'aspettavo di farmici male Effettivamente Devo essere sincero Ma Ma Ok Non volevo farmi male quello Neanche qui effettivamente Ho preso proprio male Ok Ok, ci siamo Sono a corto di energie E mi sa che ci perdo Però vabbè Ricomincio da qui Nel caso perda, quindi Ok Mi ha ricaricato un po' Abbiamo Kirby Martello Abbiamo il martello Prendo il mega Mega potrebbe rivedarsi Molto più utile Di quanto non sembri Guarda qua Guarda Ok No Ho sbagliato Dai dai Lancia 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 Ah Quello Quindi Ok Ho capito Andato Va bene Alla fine Alla fine È stata comunque Fattibile Dai Pensavo peggio Ecco fatto Non capivo perché le prime volte L'ho mancato quale stelle Forse si difendeva Forse non l'ho proprio preso Io non ci ho fatto caso Ero piuttosto concentrato A guardare che Kirby Non crepasse Priorità Ok Qui Scusami Allora no Voglio capire che cosa succede qui Ah questa è un'altra strada E basta Sì va bene Però Per capire Se magari c'era qualcos'altro da prendere Non lo so Se ti piace la frutta Mangiatela tutta Le 95 sfere di energia Che hai raccolto Hanno riattivato la porta Della sfida dell'acqua Per giocatore singolo Eh Va bene Oddio 5 ingranaggi 5 sfere di energia Oioi Sarà tosta questa eh Guarda già come Inizia il livello Wow Wow Eh vabbè Però intanto una vita guadagnata Eccolo Oddio Niente Un nemico base Ah I miei livelli preferiti Proprio Quelli dove non si vede una ceppa Eh guarda Kirby Proprio ora Molto Più visibile Tutto eh Ecco fatto Oh Non ho capito a che serviva andare lì Magari era uno specchietto per le allodole Magari no Oh Ora ci vediamo un po' meglio ma Sai come no Allora Qui Allora Eh Ah no a parte Sempre qua portava Vabbè Martello eh Se serve il martello Te lo mettono Ora dire che serve Eh sì Serve Vai Prima sfera di energia presa No vieni con me tu Scusi Ti ho lanciato per sbaglio Hai ragione Hai ragione tu Pipistrellacci Oh Usciamo Ho sbagliato io E qui Ah Uscita secondaria Ok Eh sì Non so se mi sono perso qualcosa di figo sopra Ma No Mannaggia a me Lo sapevo che Non ho perso niente Ci ho solo guadagnato Let's go ski Ah ah Voglio prendere Il cibo Se non ti Troppo disturbo Caro mio Mannaggia non me l'ha data Eh no no Non mi faccio sconfiggere dalla corrente Ma tu lo sai con chi stai parlando Sì E con uno che non ha preso il cibo Grazie Ok Andiamo Ok Pungible Knuckle Joe E Pomodoro Ah ok Quindi Knuckle Joe Ci serve O anche il parasole Mi piace Quando ti danno Le power up E tu devi capire A cosa servono Ah ma qui te ne danno altri E vabbè ma allora Scusami Oh oh Che cosa abbiamo qui Un sir de zac Eh sì Era meglio Oh che fa Mi insegue Niente Non si fase Neanche per sbaglio Eccovi qua Dammi il tuo potere Sardesac Bene Ok Ok E possiamo proseguire Ok No 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 Piano Oh, allora, preso Guarda qui che robina, va Pasto da re e sfera di energia Possiamo proseguire ora Ti stanno rivelando piuttosto semplici Da prendere queste sferre di energia Sono piuttosto into evil Vabbè, quando giochi a Kirby da un po' ormai Ok, lì non ci posso andare, va bene Lo capisco Ma se io invece facessi... No, dietro fronte non si può fare No, però... No, 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 no Sprecato Mi sa che l'ho sprecato, vero? Devo rifare il livello Mannaggia No, forse no No, invece Oh, che fortuna Perché mi diceva Deve rifare il livello un po' una seccatura Invece no, è andata bene Che fortuna Questo è barracuda, su Oh, allora Ora possiamo andare Sarebbe bello Poter rilasciare Però se mi sono messo in testa Di prendere tutte quante le sfere di energia Vuoi? Devo farlo Non ho minimamente prestato attenzione A questo coso Piano, piano, piano Dove vai? Non c'è fretta Non c'è fretta No, vai via Cazzo Accuccia Cattivo No, non passo Te lo scordi Ora passo E scusami se mi permetto anche di rallentare Dai, vai Ok, preso E ora Dovevo prendere lui Ha respawnato Vediamo un po' Che ha respawnato Sì, ok Scusami Tato Perché non avevo capito Sai com'è Ah, c'è un cannone lì E qui c'è la chiave Ma, ah Perché qua ci sono diverse cose Poi Qua c'è un altro cannone Ma io L'ho fatto praticamente a caso Tranne la chiave Che, vabbè Ho visto dov'era Quando ho capito che Serviva a illuminare Per capire dove Bisognasse andare Ho detto, ok Fattibile Easy peasy Uoooooo Corri Kirby Vai, giù per il tubo Ed eccoci in superficie Vai Biglietto per il parco Salta bene Kirby Ok, buono Le 100 sfere di energia Che ho raccolto Hanno sbloccato il minigioco Kirby Pistolero Provalo con gli amici Ma Kirby Pistolero È carino Però quello Kirby Samurai Forse è ancora più bello Allora, poi c'è il livello 5 Allora, garçon Mi diamo un souvenir No, una maschera Per favore Vorrei un souvenir Sì, eccomi Ciao Il souvenir È questo qui Ma questi altri Dopo cinque Ah, dopo che completo Delle missioni Diventano disponibili E magari qualche missione Me la completo Perché no? Andiamo a Parco Magolandia E così riscatto anche Tutti quanti i biglietti Che ho raccolto What'll do? Ah, poca roba Ok 50 missioni sbloccate E stato ad oro di Mark Ottenuta Anche anima di Mark Che ha la maschera E poi Abbiamo ricevuto Due 9 oggetti Che ne diresti Di un pomodoro Maximo Di un palloncino Bomba Wow Pomodoro Maximo Mi attira molto Ad ogni modo Per questo video è tutto Vi ringrazio Per averlo seguito La maschera Penso che la levo In descrizione Trovate come sempre Tutti quanti I link utili Per seguirmi Dove vi pare Se vi va E ci vediamo Ovviamente Al prossimo video Ciao Ciao